Buonasera, oggi a Milano c'è stata la seconda commissione cultura del Consiglio Comunale, è stata una commissione abbastanza importante perché l'assessore alla cultura Stefano Boeri ha presentato le linee guida del suo assessorato per i prossimi anni. È stata una presentazione piuttosto lunga quindi cercherò di sintetizzarla in poche parole e ricordo che comunque partecipare alle commissioni è una possibilità che tutti i cittadini hanno per cui se siete interessati informatevi sul sito del Comune quando saranno le prossime commissioni. Allora intanto la visione di Boeri del panorama del sistema culturale milanese è composta da quattro parti principali la domanda, l'offerta, i luoghi e gli operatori. Queste componenti sono le quattro componenti che l'assessore terrà presente nel suo lavoro. Per quanto riguarda la domanda, appunto ovviamente come ben sapete a Milano nei sistemi culturali sono presenti fasce di utenza diversificata, a Milano sono fasce molto variegate e che spesso si auto-organizzano. Per questo lui ha visto la necessità di organizzare questi incontri del giovedì sera, gli incontri in piazza Duomo 14 in cui prima per settori diversi, quindi musica, cinema, arte, gallerie e teatro si sono incontrati e continueranno a incontrarsi, anche questi sono incontri aperti al pubblico per fare presente quali sono le necessità dei diversi settori. In realtà nelle prossime settimane questi incontri saranno un po' più trasversali, per cui non si parlerà di singoli settori ma di questioni trasversali come ad esempio l'utilizzo delle scuole per la programmazione culturale. Per quanto riguarda l'offerta, per l'offerta si intende naturalmente tutti quelli che sono i prodotti, gli artistici, gli eventi, le manifestazioni, le mostre eccetera. Milano è una grande autoproduttrice di cultura, nel senso che ci sono tantissime realtà che producono cultura e che chiedono, secondo la visione dell'assessore, visibilità, rappresentazione e reputazione. Questo passa anche attraverso il sistema dei patrocini, il sistema che verrà rivisto, verrà modernizzato. Bisognerà lavorare su quella che lui ha chiamato la complementarietà tra le città limitrofe a Milano, che sono Bologna, Genova e Torino, per cui non si parla più di fare un altro salone del libro sul modello di quello di Torino, così come si chiederà a Torino di non organizzare un altro salone del mobile. Altre questioni legate all'editoria, si cercherà appunto di creare sistema nel sistema editoriale che è molto ricco, molto complesso, quello di Milano è la città che produce più periodici in Europa e quindi si cercherà anche qui una concertazione e un fare sistema affinché tutta questa cultura che viene prodotta a Milano sia messa a disposizione dei cittadini. Parlando invece del terzo aspetto, che sono i luoghi, per luoghi lui ha inteso i luoghi civici, i luoghi comunali, le biblioteche, i luoghi privati che intrattengono rapporti con il pubblico. Quindi è necessaria una mappatura di spazi pubblici non utilizzati e disponibili per le varie associazioni e le varie realtà di produzione artistica. Questo è già stato avviato, si sta già avviando questo procedimento. Lui ha visto il sistema dei luoghi divisi in due parti, in due categorie, diciamo il sistema dei luoghi dell'eccellenza e il sistema dei luoghi diffusi. I luoghi dell'eccellenza sono, come potete immaginare, la Scala, il Piccolo, il Palazzo Reale, il PAC, la Rotonda delle Besana, insomma i luoghi, la fabbrica del vapore, sono luoghi di grande richiamo. Invece i sistemi dei luoghi diffusi sono il sistema delle biblioteche, i rionali, le scuole, i teatri e tutti gli spazi privati. Sono due grandi capitoli che vanno sostenuti, vanno trattati in maniera diversa, naturalmente. Per quanto riguarda i luoghi dell'eccellenza, appunto un aspetto molto interessante che lui ha fatto, su cui lui lavorerà, sta già lavorando, è quello che ha chiamato principio dell'adozione, per cui uno dei problemi che lui ha visto a Milano è quello che i grandi luoghi come Palazzo Reale non hanno un'identità precisa, hanno una sovrapproduzione di eventi artistici e di mostre senza una matrice comune, così come anche gli altri, il PAC, il Fabrica del Vapore, la Rotonda della Besana. Lui vuole ridare un'identità precisa a questi luoghi, farà questo chiamando curatori o responsabili di direttori scientifici di prestigio che creino questo rapporto molto stretto, questa coerenza molto stretta tra luogo e progetto da attivare in quel luogo. Quindi sarà possibile che ci saranno come quantità meno, come dire, meno mostre a Palazzo Reale, ad esempio, ma mostre più indirizzate verso un certo progetto. Ad esempio sul PAC sta partendo un partenariato con la Serpentine Gallery di Londra, che è una galleria civica simile al PAC, con una direzione artistica molto frizzante e che creando un partenariato si movimenterà anche l'attività del PAC. Per quanto riguarda la seconda categoria dei luoghi, i luoghi cosiddetti diffusi, si è parlato di biblioteche che sono, nella visione di Boeri, un patrimonio molto importante ma sottoutilizzato. si è parlato molto velocemente della BEIC, il progetto della Biblioteca Europea, progetto che naturalmente non c'è, è un progetto mastodontico in cerca di finanziamento, ma con poche chance di trovarlo, e quindi è ancora un grande punto interrogativo. Si è parlato di scuole, creare un sistema di scuole aperte per ospitalità di eventi artistici e culturali e per creare un sistema di cultura diffusa su tutto il territorio. Si è parlato del sistema delle 59 cascine di Milano che nella visione di Boeri dovranno diventare spazi di produzione culturale. C'è già stato recentemente un evento nell'inaugurazione dei trasporti notturni di Milano che è andato molto bene, quindi su questo si andrà avanti. Il quarto capitolo, gli operatori. Per operatori Boeri in realtà intende stakeholder e operatori che hanno grandi capacità di promuovere cultura nella loro attività. Ha fatto l'esempio di Della Valle che sta sponsorizzando la ristrutturazione del Colosseo, quindi nella sua visione gli operatori sono più visti come grandi sponsor, non soltanto da coinvolgere per una questione monetaria, ma anche da coinvolgere come mecenati illuminati che adottino anche loro una istituzione culturale e che insieme al Comune la mandiano avanti. Si sta svolgendo una consulenza pro bono gratuita con Alessandro Profumo che le sta dando un po' di indicazioni in merito. Quindi queste sono le quattro aree. Un'altra cosa interessante è che si sta parlando di candidare Milano a Capitale Europeo della Cultura. Naturalmente questo è un procedimento molto lungo, quindi non avverrà sicuramente sotto l'assessorato di Boeri, però si sta capendo la possibilità di avviare la candidatura in questi mesi. Ci sono stati alcuni interventi, dei consiglieri in particolare Luca Gibilini di Selle, Patrizia Quartieri di Selle, Morelli dell'opposizione, Cappato dei Radicali, Lazzarini del PD, poi il tempo stringeva, per cui la riunione non è andata più avanti. Gibilini in particolare ha messo l'accento sulla creazione di uno sportello unico, uno sportello culturale naturalmente per le realtà, per tutta la questione dei permessi, delle licenze, dei finanziamenti, dei contributi, eccetera. In particolare ha messo l'accento anche sulla CIAE, quindi per capire se, prendendo a modello un esperimento che era stato fatto in provincia anni fa, se il Comune può fare da interfaccia con la CIAE e quindi garantire delle tariffe calmierate per gli eventi culturali indipendenti o minori. Queste sono tutte domande che i consiglieri hanno posto, non c'è stata ancora risposta da Boeri, perché il tempo era scaduto. Gibilini ha parlato della creazione di uno spazio virtuale, quindi di un grande portale internet per diffondere tutte le iniziative culturali sul territorio comunale. Patrizia Quartieri ha parlato anche lei della cultura diffusa, della biblioteca come spazi di socialità e rispetto alla BEIC, la Biblioteca Europea, se non è il caso di ridimensionare completamente il progetto, quindi farlo molto più piccolo, però mantenere il discorso sulla digitalizzazione che era in particolare il cavallo di battaglia della BEIC, quindi digitalizzare, che è già stato avviato in realtà, digitalizzare tutto il patrimonio culturale, letterario ed è l'aspetto più innovativo e più interessante per Milano a sua vista, a sua detta. E va messo anche l'accento sull'intercultura, quindi la necessità di un lavoro per dare visibilità alle culture e altre che sono cittadine anche loro di Milano. Il consigliere Morelli ha parlato di Palazzo Dugnani e del teatro lirico, quindi ha chiesto se ci sono novità, Palazzo Dugnani era stato destinato dalla Moratti alla moda, mentre Boerin ha parlato come possibile Palazzo per la cultura. Quindi ha chiesto chiarimenti, sul teatro lirico sembra che appunto Pisa Pia abbia detto che ci sono delle novità, ha chiesto quali sono queste novità, ma non ha ricevuto risposta. Cappato dei Radicali ha parlato dell'emergenza della memoria, quindi la necessità di raccogliere la memoria della città che è stata Milano, ha parlato della necessità di usare licenze Creative Commons per tutto il patrimonio culturale cittadino in modo da incrementare e incentivare la possibilità di utilizzare il patrimonio ovviamente a costo zero con le licenze Copy Left o Creative Commons. E ha parlato anche dell'accessibilità per i disabili sensoriali e motori come uno degli aspetti che Milano deve incentivare molto e che potrebbe nei prossimi anni diciamo riversarsi come un boomerang a favore della nostra città proprio perché si sta creando un turismo anche da parte di una necessità diciamo di accedere ai luoghi della cultura anche da parte dei disabili sensoriali e motori. Ci sono stati anche altri interventi sicuramente meno interessanti e poi il tempo è scaduto quindi probabilmente ci sarà un'altra udienza con Stefano Boeri con l'assessore Boeri per rispondere a tutte queste domande. quindi state seguiteci perché prossimamente nelle prossime settimane parleremo ancora di questa cosa e a presto.